Nella centrodestra locale, in attesa di un nuovo confronto che potrebbe tenersi entro i prossimi giorni, non sembrano esserci ancora vere certezze. Se forse Italia appare irrimediabilmente spaccata, la Lega invece non ha sciolto la riserva sulle alleanze e il gruppo dei fedelissimi del presidente della regione, Nello Musumeci, sta cercando di mediare compito certamente non semplice. Sono tante le anime della teorica alleanza, infatti dovrebbero far parte anche Fratelli d'Italia, il Popolo della Famiglia, l'UdcEnergie per l'Italia e proprio in assenza di un eventuale accordo da Palermo potrebbero arrivare le direttive da seguire. Gli ultimi sono stati giorni di intensi incontri per i centristi, reduci proprio da diverse riunioni palermitane. Il gruppo di Noi con l'Italia, che aderisce alla piattaforma centrista in corso di costruzione sull'isola, pare sempre più convinto di poterla spuntare con la scelta del candidato a sindaco che si metterebbe a capo dell'eventuale coalizione di centrodestra. L'ipotesi dell'ex consigliere comunale Vincenzo Cirignotta, ormai più che una voce, il capogruppo uscente di Noi con l'Italia continua ad avere un filo diretto con i vertici regionali della sua area, ma anche con i dirigenti di partiti della coalizione. Non a caso, lui e i suoi sostenitori più fidati si sono fatti vedere sabato sera la manifestazione forzista organizzata in piazza Umberto I. I rapporti con il coordinatore provinciale azzurro Michele Mancuso potrebbero essere un buon viatico per aprire un varco nell'alleanza, dove il gruppo di Cirignotta ha già l'appoggio dell'area centrista, compreso quello dei responsabili regionali dell'Udc. Alla fine si potrebbe arrivare ad un patto che veda Cirignotta candidato a sindaco in una coalizione ampia. In questo caso però bisognerà convincere tutte le anime, compresi i leghisti, esponenti di Fratelli d'Italia e componenti di Diventerà Bellissima. Difficile che la candidatura di Cirignotta possa invece scaldare i cuori dei forzisti che si rifanno alla deputata nazionale Giussi Bartolozzi, all'ex parlamentare regionale Pino Federico, che invece guardano ad altri progetti e potrebbero rompere definitivamente con il coordinatore provinciale Mancuso. Senza una vera intesa su base locale, anche la stessa coalizione potrebbe dividersi, magari dando vita a più candidature. Le segreterie locali stanno lavorando per un incontro da tenersi prima possibile, anche se dall'enturaggio di Cirignotta traspare parecchio ottimismo.